Comunque corsa aperta, si aprono le gabbie, partiti i cavalli della quinta corsa dall'interno Open Cage al suo esterno fast and elegant, ma i due ripiegano a favore di Twist and Shout il cui interprete però, Samuele Diana ha perso le staffe proprio nella prima fase di gara insieme a altri finimenti, qualche problema dunque per Twist and Shout torniamo in cima alla corsa Open Cage, davanti lungo lo steccato nei confronti di Le Grins & Chic si sono creati tre gruppetti con la parte centrale della pista occupata dalla principala Going Garo Blu e Pontier, in vantaggio adesso c'è sempre Twist and Shout con Samuele Diana che sta facendo dei miracoli da equilibrista per cercare di rimanere in sella e soprattutto recuperare le redini, gli ultimi 500 metri da percorrere con Fast and Elegant lungo lo steccato che è un leggero vantaggio nei confronti della principala che ci prova dal centro la pista, all'interno c'è anche Open Cage, ci prova il Moro poi ci prova anche lo stesso Pontier, questo è il gruppo dei partecipanti con Fast and Elegant che va alla rincorsa della principala cercando di approfittare della situazione ponderale Pasquale Borrelli sta richiedendo il minimo sforzo al suo per battere la principala Fast and Elegant che sigla nei confronti della principala per il terzo posto il numero 8 il Moro, vince dunque da favorito Fast and Elegant, doppietta per Pasquale Borrelli il training è quello di Sabrina Dulci, i colori sono quelli della scuderia Eolo 2 al primo posto, 1 la principala con Antonio Monteriso al secondo, al terzo il numero 8 il Moro, 2-1-8, vince Fast and Elegant che così in basso contava tantissimo per lui è la vittoria numero 4 in carriera come detto numericamente l'ordine d'arrivo è 2-1-8 è tutto per la quinta corsa intanto vi diciamo che tutto risolto per Samuele Diana che ha fermato in maniera normale dopo la disavventura in sella è tutto grazie a tutti grazie a tutti